AWC, Portuguese Yacht Club Chronograph, eleganza e sportività. Nel 1967, AWC presentò il primo modello Yacht Club, un orologio automatico con una cassa in acciaio di 37 mm e un movimento con una frequenza di 3 Hz. Il modello Yacht Club era pensato per gli appassionati di vela e di sport acquatici, e aveva una resistenza all'acqua di 6 bar e una lunetta girevole interna con una scala dei nodi. Il modello Yacht Club fu uno dei maggiori successi di AWC nel XX secolo. Nel 2020, AWC presenta la terza generazione del modello Portuguese Yacht Club Chronograph, che mantiene le caratteristiche della generazione precedente, ma con alcune novità. La cassa è leggermente più piccola, con un diametro di 44,6 mm e uno spessore di 14,3 mm in acciaio inossidabile. Il quadrante del Portuguese Yacht Club Chronograph è disponibile in tre varianti di colore, bianco, blu, argento o nero con elementi luminescenti. Le lancette e gli indici applicati in acciaio sono in oro rosso 18 carati o in rodio, a seconda della versione. E' presente anche il logo AWC a ore 3 e la scritta Yacht Club a ore 9. Il fondello è trasparente, in vetro zaffiro che permette di ammirare il movimento meccanico automatico che anima l'orologio. Il movimento è il calibro di manifattura AWC 89361 con frequenza di 4 Hz e una riserva di carica di 68 ore. La funzione cronografica con ore, minuti e secondi, con i contatori di ore e minuti è collocata in un unico totalizzatore a ore 12, inoltre provvista anche di funzione flyback, che consente di azzerare e riavviare il cronografo con una sola pressione del pulsante, e una funzione di piccoli secondi con dispositivo di arresto, che permette di sincronizzare l'orologio con un segnale di riferimento. Il movimento ha inoltre una funzione di datario, che mostra la data in una finestrella a ore 6. L'orologio è resistente all'acqua fino a 10 bar, il che equivale a una profondità di circa 100 metri. Grazie a tutti.